Cade sotto i colpi della PL Livorno l'Amen Scuola Baschetta Rezzo di coach Millicostretta alla resa 75-65, un inizio negativo 9-1 dopo due minuti, condizione il primo quarto di gara che si chiude sul 23-14 per la squadra di casa che trova 8 punti da un incisivo schiano. Nel secondo parziale gli Amaranto reagiscono stringendo le maglie difensive e trovando in attacco tiri aperti che consentono alla Sbadi rifarsi sotto fino al meno 1-31-30. Nell'ultimo minuto prima dell'intervallo l'Amen però spreca quanto di buono aveva fatto, la PL si ricarica con una rubata di creati che va a chiudere in contropiede l'appoggio del 38-31 al ventesimo. A rientra dagli spogliatori la squadra di casa accelera nuovamente ancora schiano e magni, favoriscono l'allungo labronico sigillato dalla tripla di Stolfi a fil di Sirena che chiude il terzo quarto 58-42. L'Amen raccoglie tutte le proprie energie e riduce il gap con gli avversari tornando anche a meno 8 con 120 secondi sul cronometro. Questa volta però i tiri che avrebbero potuto impensire la PL vanno fuori e Baroncelli sigla i punti della staffa. Alla fine il punteggio premia Livorno 75-65 da segnalare nelle file a Maranto l'impatto positivo degli Ander Andreani e Calzini che si stanno comunque ritagliando minuti importanti alla loro prima esperienza in questo campionato senior. Prossimo impegno della Mesba domenica 3 novembre alle 18.15 al Palasporta Estra contro l'imbattuta umana chiusi autentica corazzata di questo girone.